Ci troviamo in Fontana Fredda, nel comune di Anfo e qua inizierà una piccola storia di questo territorio. Siamo nei Meandri della Valsabia, qui nel esercizio italiano, vicino a Fontana Fredda, usò questo posto. Qui c'era il vecchio passaggio, quella storica del baremone, non la strada, e qui nel esercizio italiano usò questa cosa come discarica. C'è come discarica sul lato, come cava, e qui vivono anche due baraccamenti. Adesso andiamo a vedere, e qui vi faccio vedere dove si arrivava con la teliferica. Perché qua arrivava, oltre ai baraccamenti, arrivava una bellissima teliferica che seguiva giù. Questa qua era la vecchia mulettiera che scendeva, che era la vecchia strada come dicevo prima, e qui su questo pianara invece arrivava la teliferica. Qua esattamente c'era la teliferica di Fontana Fredda, che univa a Gatule, e si univa a Gatule, e si univa a Valcaedi per portare il materiale da questa parte. Qui sotto c'è la strada militare, e questa invece era la vecchia mulettiera, nonché prima strada per salire a baremo. Grazie. 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 Grazie.